E' durato poco più di un'ora l'incontro in procura a Pescara tra i parenti delle vittime di Rigopiano e del procuratore capo di Pescara Massimiliano Serpi e del sostituto Andrea Papalia. I magistrati che conducono l'inchiesta sulla tragedia di Rigopiano hanno illustrato le novità dell'inchiesta stessa che non è ancora chiusa all'uscita da Palazzo di Giustizia. Abbiamo ascoltato Gianluca Tanda in rappresentanza dei parenti delle vittime di Rigopiano che ha spiegato e parlato di quanto detto all'interno del tribunale con il procuratore del suo sostituto. Le novità non ci sono, ovviamente loro mantengono il segreto, però usciamo più fiduciosi rispetto a come siamo entrati. Abbiamo capito che fra pochi giorni chiuderanno le indagini e ci saranno i primi rinvii a giudizio. La cosa ci fa piacere perché così possiamo anche essere noi parte integrante di questo processo, possiamo anche dire la nostra. Noi non molleremo di un solo passo questa nostra battaglia. Abbiamo fatto le domande, alcune non ci rispondevano, però si capiva dalle loro espressioni. La voce diceva no, ma in realtà era un sì. Quindi questo abbiamo capito noi. Vediamo, fra tre o quattro giorni, se riusciamo pure noi, perché veramente l'attesa è del locurante. Due anni quasi sono tanti, sono tanti di attesa. Avremo 20 giorni di tempo per leggerci le carte, le leggeremo insieme ai nostri legali, tutti quanti insieme al nostro comitato. Faremo le nostre scelte e vedremo cosa manca, perché secondo me qualche cosina manca all'interno. Grazie. Grazie a tutti